Grazie a tutti Ragazzi ho portato lo spec Finalmente Lo sai come è stato fatto questo spec, vero? Pensa a quei poveri maiali come li hanno trattati male Lo sapevi che i lavoratori sono stati sfruttati? Poveri maiali li avranno sicuramente riempiti di antibiotici Io so solo che era in offerta Io preferisco il formaggio Dai ragazzi che c'ho fame Questo è un vero spec L'ha fatto il mio vicino e li ho visti i maiali Erano trattati bene Ok Laura manchiamo il tuo Controlla sempre la qualità del spec La A della seconda C Vai Questo è un vero spec L'ha fatto il mio vicino Ok Laura manchiamo il tuo Tutto 3, 2, 1, vai Allora E' bella E' bella anche come tu Maiaa 2, 1, dentro Farata della seconda C Fermi Anna sorridi 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via Ripanciamola Grazie per la visione!